oh com'è? per dire la verità mi sta sentendo un poco male magari io... perché non potevamo pigliare l'aereo? e chissaccio? no! l'aereo non si poteva pigliare perché io mi spagno dell'aereo che poi c'hai una fame? oh vedi che la c'è una isoletta con una pizzeria e chiamoci andò! vieni qua! andò! 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 via qua! ci stanno le pizze pronte! andò! andò! via qua! andò! via qua! andò! andò! ti ha già chiamato cento volte eh... ma perché devi parlare così? scusa che non sei manco napoletano ehi! state sito! sta! mi vuoi fare perdere il posto! io sono napoletano quanto a te! ah tu voleva pizze! ah pizze! ah pizze! capumarole in coppa! capumarole in coppa! ah tu voleva pizze! ah pizze! ehi giovanotti e voi chi siete? salve! siamo qua per comprare della pizza! e guaglio! le pizze stanno pronte! guarda! guarda! che cosa? beh! oh ma che è? ehi! a che ne so! io faccio la pizza! faccio il cacciatore di teste per l'agenzia spaziale siciliana piga voce a due che già c'avete le magliette pronte! tenetevi forza! a maglietti al campo di addestramento! si! 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 oh che facciamo? non mangiamo sta pizza? ciao!! Grazie a tutti